Grazie mille. Allora, intanto ringrazio Cecilia non soltanto per questa generosa presentazione, ma anche per il graditissimo invito che mi permette in realtà di tornare su un argomento che mi ha affascinato fin dall'esplodere della pandemia e continua tuttora ad affascinarmi, soprattutto appunto nella prospettiva che apre Maimonide. Allora, cominciamo immediatamente. Era il 2020 quando la compianta Chiara Frugoni mandava alle stampe per la casa editrice in Muglino uno dei suoi ultimi bellissimi lavori, dal titolo già di per sé significativo Paure medievali, Epidemie e prodigi fine del tempo. Il volume, concepito nel 2019, racconta di un passato che, come la Frugoni stessa scrive, si è fatto sorprendentemente e prepotentemente vicino nel momento in cui, con sgomento, ci siamo trovati ad affrontare realtà che si ritenevano ormai scongiurate da secoli, come può esserlo una pandemia causata da un virus. Nell'affascinante viaggio tracciato dalla Frugoni e fitto di immagini e storie, tra le paure che assillavano il Medioevo ne compare una che mi piacerebbe utilizzare come punto di partenza di questo seminario, ed è la paura degli ebrei, perché c'è un evento che nel Medioevo all'improvviso ne fece i nemici della porta accanto. Il riferimento quindi non sarà tanto alla percezione generalizzata, comune, che si aveva all'epoca degli ebrei come pseudo uomini, besti manchevoli di ragione, in grado di riconoscere e osservare soltanto le proprie leggi, e meritevoli per questo di essere anche raffigurati diversamente dagli uomini in senso stretto, quindi con i tratti fisioniomici che li accompagneranno per lungo tempo, naso adunco, capigliatura, folta, barba, quando non addirittura aggiungendo un pregiudizio razziale ad un altro alla pelle nera. Più che, dicevo, a questo generalizzato antisemitismo, mi interessa qui riprendere un fatto specifico. Nel 1321 si passa dalle dicerie ad una crudelissima realtà, le cronache del tempo riportano che le popolazioni del centro della Francia avevano accusato i lebrosi di aver tentato di far ammalare, se non addirittura morire, i sani, avvelenando fiumi, fontanne e pozzi, con la complicità degli ebrei che cercavano in questo modo di distruggere il popolo cristiano. L'ossessione del complotto riesplode con la peste del 1348, in cui ancora una volta si torna a cercare un colpevole dell'epidemia, e di nuovo furono gli ebrei ad essere incolpati di diffonderla. Gli ebrei quindi continuavano ad essere guardati come una grave minaccia nella convinzione che attraverso di essi il diavolo tornasse ad operare per sovvertire l'ordine cristiano. E poco contò in questo il fatto che il papa Clemente VI, in persona, intervenisse contro la tesi del complotto, ricordando in realtà che anche gli ebrei morivano di peste e che l'epidemia si era propagata in regioni dove gli ebrei erano assenti. L'ondata di violenza comunque non si placò, l'isteria collettiva portò a massacrare, torturare, mandare a ruogo migliaia di ebrei, compresi donne e bambini. Questa lunga premessa solo per dire in realtà in quale rapporto stessero fra loro gli ebrei e la lebra per chi dall'esterno cercava risposte all'insorgere della malattia. Ma proviamo ad invertire la prospettiva, cioè gli ebrei invece in che modo si rapportavano alla lebra? Qual era la loro idea della lebra? Il riferimento alla lebra nella letteratura filosofica ebraica compare pressoché esclusivamente nell'ambito di un progetto più ampio, che è quello di discussione delle cause di impurità. Rendere impuri è, oltre al contatto con un corpo morto, umano o animale che sia, il flusso mestruale, il sangue delle partorienti e per l'appunto la lebra. Lo si legge espressamente nei versi 13 e 14 del Levitico, in cui appunto troviamo se un uomo è colpito dalla lebra in ebraico, sarahat, deve essere portato dal sacerdote e il sacerdote lo esaminerà. Se sulla pelle c'è un rigonfiamento bianco che ha fatto diventare bianchi i peli e in esso c'è la carne viva, è lebra cronica della pelle e il sacerdote dichiarerà l'uomo impuro. La carne viva è impura, è lebra, ma se la carne viva ritorna bianca, allora l'uomo andrà dal sacerdote, il sacerdote lo esaminerà e se la lesione è diventata bianca, allora lo dichiarerà puro. Non sfugge a tutto questo e quindi anche all'uso del Levitico per discutere dell'impurità del lebroso neanche Mosè Maimonide, uno dei principali, se non il principale rappresentante della filosofia ebraica medievale. A beneficio di tutti, anche di chi appunto abbia una scarsa conoscenza, una scarsa familiarità con Maimonide, dirò qualcosa sul suo conto, ma non lo faccio soltanto per questo, ma anche e soprattutto perché la sua riflessione sulla lebra in realtà sarebbe poco comprensibile senza il contesto remoto nel quale Maimonide stesso va a collocarla. A restituire le proporzioni di Maimonide basterebbero in realtà le parole con le quali è ricordato dal popolo ebraico. Da Mosè a Mosè, nessuno come Mosè, ad indicare una continuità fra Mosè il primo profeta, il profeta per Antonomasia e appunto il Mosè di cui andremo a trattare. nato a Cordova nel 1138, già nel 1148 lasciava l'Andalusia a causa della campagna di conversioni forzate degli ebrei avviata dagli Ammoaidi. E dopo varie peregrinazioni che lo portarono prima in Marocco e poi in Palestina, si stabilì in Egitto, precisamente nel Cairo, dove rimase fino alla morte avvenuta nel 1204. La cosa che interessa è che proprio in questo periodo in Egitto Maimonide dà vita ad un'intensa attività come medico che si traduce in una serie di monografie appunto di argomento medico, quindi trattati di patologia, di igiene, di dietetica, di farmacologia, ma soprattutto risale a questo periodo la redazione delle due principali opere di Maimonide. Da una parte il Mishneh Torah e quindi la ripetizione della legge che addirittura varrà a Maimonide il titolo di autorità rabbinica del suo tempo. L'opera fu scritta in 14 libri con l'intento di sistematizzare i progetti della Torah e dimostrare come ciascuno di questi progetti fosse razionalmente fondato. Dall'altra abbiamo la guida dei perplessi composta in un arco di tempo lungo dal 1180 al 1190 un'opera che costituisce dal momento stesso della sua circolazione il punto di riferimento della letteratura filosofica del medioevo ebraico e non solo se è vero come effettivamente è che è citata assieme al nome del suo autore come una vera e propria autoritas nell'Occidente e l'Aquino. Tommaso Aquino per primo più volte vi farà riferimento alludendo ad essa e al suo autore attraverso la formula Utdicit Rabbim Moises quindi come dice il rabbino Mosè. Ora anche nel rispetto dell'ordine cronologico cominceremo da ciò che Maimonide consegna alla sua opera giuridica quindi al Mishnetorah perché è tutto un trattato di questo codice normativo e per la precisione il trattato 3 del libro 10 sull'impurità è dedicato appunto alla lebra. Maimonide apre il trattato scrivendo che quando la Zaraat e quindi la lebra affligge la pelle umana essa diventa bianca come l'albume di un uovo o ancora più bianca. Il trattato dicevo già prima si apre appunto in questi termini e Maimonide da questo momento in poi prosegue per ben 16 capitoli in una disamina particolareggiata talvolta anche i limiti della pedanteria sui vari stati della malattia e ciò che ad essi connesso. I gradi di intensità di bianco con cui si manifesta la lebra macchie più o meno bianche fino al caso della macchia bianca come la neve che appare scura sulla pelle di un albino comportano la rigidità o al contrario l'indulgenza delle regole da rispettare perché si possa finalmente recuperare la purezza che è andata persa. Resta che in una suddivisione di generi anche fin troppo netta Maimonide spiega che l'uomo colpito dalla lebra è tenuto a coprire la testa per tutto il tempo in cui è impuro fino a coprire le labbra stesse come se fosse in lutto le sue vesti devono essere strappate come ulteriore segno di riconoscimento e il lebroso deve avvisare chiunque li passi accanto della sua impurità. L'impurità gli inoltre è proibito tagliarsi i capelli e lavare i vestiti per tutto il tempo in cui è considerato impuro e queste prescrizioni e queste prescrizioni si estendono fino a contemplare lo spostamento dell'ebroso al di fuori della sua città assieme alla necessità di informare gli altri questa dello spostamento è l'unica prescrizione che l'uomo in realtà condivide con la donna nella consapevolezza della pericolosità e della pervatività del contagio all'idea dell'isolamento che per l'appunto condiviso la donna colpita dalla lebra non è tuttavia tenuta a coprirsi la testa né a strapparsi le vesti diverso invece il caso del tum tum ovvero della persona che abbia gli organi genitali coperti da un manto di pelle che ne rende indecifrabile il sesso e dell'androgeno essendo dubbio il loro genere la loro appartenenza ad un genere sessuale dovranno coprirsi il capo e strapparsi le vesti appunto come se fossero uomini pur non essendolo in questa risistemazione ma in monidea dell'argomento che in realtà lo ripeto è tutt'altro che semplice da seguire soprattutto per l'ampia casistica che viene passata in rassegna alcuni elementi tornano con una certa frequenza quasi a sottolinearne l'importanza ma in monidea scrive che si resta impuri senza possibilità di liberarsi dal sigillo di impurità se dopo l'isolamento di due settimane e il processo di ispezione che ne segue continuano a comparire macchie bianche fra i capelli e sulla pelle le cose tra l'altro non cambiano neanche nel caso in cui il corpo sia coperto di lebra con l'unica eccezione di una lenticchia di pelle sana il termine che viene usato in ebraico è proprio quello di lenticchia il soggetto diventato pressoché bianco dovrà essere considerato ancora impuro a decretare la guarigione e l'uscita dall'impurità e il sacerdote su cui ma i monide è di nuovo tutt'altro che avido di informazioni il sacerdote non è autorizzato a giudicare impuro una persona finché non analizzi le macchie confrontandole con la pelle che è attorno e anzi volendo essere ancora più precisi e seguire in questo le indicazioni di memonie stesso è il sacerdote che ha ispezionato la macchia al momento della sua comparsa a dover ispezionare quella stessa macchia alla fine della prima e della seconda settimana perché essendo a conoscenza del decorso della malattia potrà liberare definitivamente dal processo di ispezione lebroso o mantenerlo nella condizione di impurità a scanso di qualsiasi equivoco viene persino esplicitato qui che se il sacerdote che ha ispezionato inizialmente la macchia morisse o si ammalasse il sacerdote chiamato a sostituirlo dovrebbe ispezionare la macchia in questione senza considerarne l'accrescimento delle dimensioni non avendo contezza delle dimensioni originarie e tre sono i gesti previsti per la purificazione dell'ebroso la rasatura di tutti i peli visibili del corpo comprese le sopracciglia le ascelle e i peli pubici la sua immersione in acqua viva cioè scientificata e per ultimo l'aspersione sull'orso della sua mano del sangue di un uccello macellato un processo di purificazione che vede il grado di impurità dell'ebroso progressivamente ridursi fino a scomparire ciò che di questa ricostruzione sorprende o almeno diverte più di tutto il resto è il fatto che la Zaraat non interessi soltanto gli uomini ad essere colpiti dalla lebra sono anche indumenti di lana o lino e le case e vengono colpiti non come forse ci aspetteremmo perché contaminati dall'ebroso stesso anzi il processo di contaminazione è esattamente inverso proviamo allora a seguire ciò che Maimonia dice a tal riguardo Egli afferma che un indumento può coprirsi di macchie verde scuro o rosso intenso in tal caso l'indumento viene messo in isolamento e ritenuto impuro fino ad essere bruciato se la macchia rimane o le sue dimensioni aumentano nelle due settimane consecutive l'indumento invece può dirsi puro e quindi può essere finalmente lavato se la macchia scompare o quantomeno si sbiadisce verde scuro e rosso intenso sono ancora le macchie che compaiono sulle case costringendo ad isolare lo stabilimento o a intonacarlo nuovamente raschiando la macchia e purificando con del pollame il muro su cui è raffiorata la macchia e nella peggiore delle ipotesi si dovrà abbattere la casa se la macchia persiste ai fini delle conclusioni alle quali giungerà Maimonide in questo commento alla Torah interessa che gli indumenti indossati al momento dell'ingresso in una casa impura restano in realtà puri fin quando l'ebreo che li indossa non decida di fermarsi lì per mangiare quindi non decida di fermarsi nella casa impura per mangiare viene quindi ad essere stabilita una sorta di proporzione fra il mangiare e il mentire tale per cui la misura del tempo necessario a contrarre è la stessa necessaria a mangiare perché sembrerebbe proprio che è a tavola che si contrae l'impurità quello quello che segue nel passo che è riportato non potrebbe che essere più eloquente in tal senso Memonide scrive infatti che lo stesso termine tsaraat copre afflizioni diverse indicando tanto lo sbiancamento della pelle quanto il cambiamento del colore dei vestiti o delle case il cambiamento che colpisce i vestiti e le case dice Memonide non è un evento naturale invece è un segno è un prodigio prevalente tra il popolo ebraico per metterlo in guardia contro la il discorso indesiderato quando una persona parla esprimendosi appunto attraverso la le pareti della sua casa cambiano colore se si pente la casa sarà purificata se invece persiste nella sua malvagità fino a quando la casa viene distrutta gli attrezzi di cuoio della sua casa su cui si siede e si sdraia cambiano colore se si pente saranno purificati se persiste nella sua malvagità fino a quando vengono bruciati i vestiti che indossa cambiano colore se si pente saranno purificati se persiste nella sua malvagità fino a quando vengono bruciati la sua pelle subisce dei cambiamenti e sviluppa la zarat questo fa sì che venga isolato e che rimanga in isolamento solo perché non sia più coinvolto in una serie di ulteriori malvagità che sono follia e parole indesiderate o insensate allora evidentemente si tratta di una spiegazione bizzarra della lebra stando a quello che ho appena letto la lebra costituisce appunto l'ultimo il più alto grado di un percorso di avvertimento del malvagio che dall'esterno e quindi dalla comparsa delle macchie sulla casa si fa sempre più vicino o più intimo toccando prima i vestiti e poi ciò che più appartiene a ciascun individuo ossia la pelle niente di scientifico in tutto questo che non può essere spiegato diversamente non essendo un evento naturale ma a tutti gli effetti un evento morale l'argomento viene liquidato così senza mezzi termini dopo una rassegna che lo ripeto è cavillosa lunga estenuante e complessa delle norme legate alla comparsa immediata o casuale o graduale di macchie il principio comunque che giustifica l'evento questo evento innaturale della comparsa delle macchie è assolutamente autoreferenziale tutto interno alla tradizione religiosa ebraica che Maimonide qui si sta facendo carico di spiegare al punto tale che il trattato si chiude proprio con una serie di riferimenti biblici che ho riportato la Torah mette in guardia su questo affermando secondo Deuteronomio 24 8 9 fai attenzione a una macchia di Tzaraat ricorda ciò che Dio tuo signore fece a Miriam ora questo è ciò che la Torah implica contempla ciò che accadde alla profetessa Miriam le parlò contro suo fratello appunto aveva sparlato non parlò in modo peggiorativo di lui semplicemente sbagliò nell'equipararlo agli altri profeti Miriam lo ricordo era la sorella di Mosè Mosè non obiettò nulla di tutto ciò come riferisce numeri 12-3 e l'uomo Mosè era estremamente umile ciò nonostante fu immediatamente punita con lo Tzaraat certamente si può fare un'inferenza riguardo agli uomini malvagi e sciocchi che parlano estesamente di questioni grandi e meravigliose perciò bisognerebbe evitare di restare intrappolati nella rete della malvagità e della soltezza gli solti malvagi così fanno all'inizio parlano eccessivamente di argomenti vuoti come afferma l'Ecclesiaste 5-2 il parlare dello stolto è caratterizzato da una moltitudine di parole e come risultato di questo i malvagi arrivano a parlare negativamente dei giusti come riflette il verso Salmi 31-19 che le labbra bugiarde siano messe a tacere quelle che dicono il falso su un uomo giusto di conseguenza si abitueranno a parlare contro i profeti e a gettare calugne sulle loro parole come si riflette nel versetto cronache 2-36-16 abusavano dei messaggeri di Dio sprezzavano le sue parole e si burlavano dei suoi profeti e questo li avrebbe portati a negare completamente l'esistenza di Dio come si riflette nel versetto re 2-17-9 i figli di Israele parlavano in segreto di cose non vere contro Dio il loro Signore in questo senso Salmi 73-9 afferma hanno messo la loro bocca contro il cielo e la loro lingua si pavoneggia sulla terra cosa li ha portati a mettere le loro bocche contro il cielo le loro lingue che in precedenza avevano avuto il libero regno sulla terra questo è il discorso dei malvagi che è causato al bighellonare sugli angoli delle strade frequentando le assemblee di gente comune e passando il tempo alle feste degli ubriachi al contrario il discorso del popolo ebraico corretto riguarda solo le parole della Torah e della saggezza pertanto il santo benedetto gli sia assiste il popolo ebraico e gli concede dei meriti per questo come afferma Malachia 316 allora coloro che temono Dio conversavano ognuno con il suo simile e Dio ascoltava e prestava attenzione sia benedetto il misericordioso che concede assistenza la citazione è lunga e forse vi ho tediato questo moltiplicarsi di versi biblici però mi sembrava opportuno riportarla per intero perché in realtà restituisce in maniera esaustiva il senso della posizione maimonidea i personaggi o i luoghi biblici sono infatti esemplificativi di quello che succede o potrebbe succedere all'ebreo che incamminandosi sulla strada della malvagità e della soltezza restasse indifferente a ciò che invece avrebbe potuto salvarlo se solo vi avrebbe prestato vi avesse prestato la giusta attenzione quindi l'ebreo che persiste nel peccato nella malvagità e nella soltezza o nel parlare in maniera impropria scorretta non può che essere punito e viene punito con una serie di avvertimenti che dalla casa vanno poi a toccare i suoi indumenti fino a coprirlo di macchie proviamo però a questo punto a cambiare prospettiva quindi ad uscire da un contesto strettamente giuridico di risistemazione del diritto ebraico qual è appunto il missione Torah per entrare nella guida dei perplessi che passa come il capolavoro filosofico di Maimonide anche in questo caso dirò qualcosa di assolutamente generico sulla guida dei perplessi per permettere di avere chiaro il quadro entro il quale matura la riflessione di Maimonide sulla lebra l'opera composta originariamente in giudeo arabo e quindi in dialetto arabo impiegato dalle comunità ebraiche presenti nei paesi islamici è nota con il titolo ebraico di Morea Nebuchim e poi in latino fu tradotta con il titolo di Dux Neutrorum si tratta di un'opera esegetica in cui Maimonide si propone di interpretare i testi della tradizione religiosa ebraica la Bibbia e il Talmud attraverso le risorse e le tecniche messe a disposizione dall'aristopedismo e questo perché il fine di Maimonide è proprio quello di appianare le difficoltà della legge ebraica proponendo una spiegazione che sia quanto più razionale possibile dei passi o dei termini più controversi ma a chi interessa questo genere di spiegazione a chi può interessare questa razionalizzazione del giudaismo Maimonide è chiaro a questo riguardo dice non di certo al fedele o al volgo che si accontenta di ciò che la tradizione veicola attraverso la superficie dei testi ad essere interessati sono piuttosto i perplessi evocati dal titolo ovvero coloro che saldi nell'osservanza della legge si sono imbattuti in una conoscenza quella filosofica che ora li paralizza e li paralizza proprio perché il materiale che arriva dall'antica Grecia sembra in qualche modo entrare in contrasto con ciò che invece è consegnato dalla Torah e dal Talmud una delle definizioni più suggestive della perplessità la troviamo nelle parole di Maria Zambrano in realtà è una delle definizioni che più mi piace riportare a questo proposito Maria Zambrano è stata una filosofa spagnola che ha attraversato il novecento ed è stata costretta ad un lungo esilio a causa dell'instaurarsi della dittatura franchista in una delle sue opere forse più celebri che è verso un sapere dell'anima presentando la guida come un genere minore o comunque umile rispetto ai grandi sistemi filosofici scrive che a proposito dei perplessi si tratta di creature al di sopra del livello comune di coloro che riproducono in modo autonomo anonimo scusate una cultura nella sua forma tradizionale e si adeguano ad una forma data in precedenza la perplessità si produce infatti quando la conoscenza è tale da lasciare margine a rischio quando si rischia nello scegliere la perplessità è una situazione che presuppone un lusso di alternative di fronte alle quali si ammutolisce al perpresso non manca la conoscenza ma esattamente al contrario la sua conoscenza è tanta e tale da turbarlo abbagliarlo senza che egli riesca a penetrarla quali sono allora potremmo chiederci le alternative che abbagliano il perplesso che paralizzano fino a paralizzare il perplesso lo accennavo già prima i perplessi in realtà sono disorientati dalle apparenti contraddizioni che si danno tra la legge giudaica da una parte e la filosofia aristotelica dall'altra il rimedio alla perplessità proposto da Maimonide consisterà nel mostrare che le due vie conducono allo stesso risultato e che quindi appunto la contraddizione è soltanto apparente purché si superi il livello puramente letterale dell'interpretazione dei testi sacri per coglierne il significato allegorico o nascosto perché appunto Maimonide stesso lo scrive è possibile appunto recuperare questo significato nascosto esattamente come perle in una casa mobiliata e buia rifletti sull'affermazione che i sensi esoterici delle parole della legge sono la perla e che il senso letterale di ogni metafora non vale nulla e sul fatto che essi paragonano il significato delle metafore nascoste nel senso letterale a chi perde una perla in una casa buia piena di mobili quella perla c'è ma Elino la vede e non sa dove sia è come se quella perla non fosse in suo possesso perché gli è impossibile ricavarne a confine finché non accendere la lanterna e Maimonia in realtà continua con questa serie di metafore che sono esemplificative del doppio livello di scrittura e di lettura della Torah quindi uno superficiale e l'altro più allegorico scrivendo sempre nelle pagine introduttive della guida disse il sapiente una parola detta a modo è come una mela d'oro in una filigrana d'argento come una mela d'oro in una filigrana d'argento con fori molto piccoli è il discorso che si fa in due sensi ossia uno letterale e uno esoterico il senso letterale deve essere bello come l'argento e quello esoterico ancora più bello e bisogna che nel senso letterale vi sia qualcosa che guida colui che lo serve attentamente a comprendere il senso esoterico quando si guarda la mela da una certa distanza o senza esamiarla bene si pensa che sia d'argento mentre quando la si osserva con vista acuta e molto attentamente appare con evidenza ciò che c'è dentro e si capisce che essa è d'oro che cosa implica tutto questo beh in realtà direi che implica soltanto una cosa e cioè che essendo pochi coloro che riescono a recuperare le perle o a entrare negli occhielli della filigrana d'argento per cogliere la mela d'oro e quindi pochi coloro che riescono ad abbandonare la superficie del testo Maimonie non potrà mai spiegare chiaramente le metafore dovrà piuttosto traghettare i destinatari dell'opera fuori dalla perplessità senza mai dire apertamente ma piuttosto usando la dissimulazione quindi nascondendo fra le righe le verità meno evidenti o più elevate Leo Strauss che è uno dei principali interpreti della guida dei perplessi parlava non a caso di scrittura della reticenza proprio perché Maimonie va ad incastonare in un tessuto propriamente ortodosso per le filosofiche che solo i potenziali filosofi o i lettori più sofisticati saranno in grado di recuperare e arriviamo così dopo questa lunga ma forse necessaria premessa a quello che più ci interessa da vicino ovvero ai luoghi della guida dei perplessi in cui Maimonide parla in maniera quasi occidentale della lebra il primo luogo in cui troviamo menzionata la lebra è in realtà quello in cui ci aspetteremmo questa trattazione siamo infatti nell'ultima delle tre parti di cui consta la guida la parte dedicata alle finalità dei principali progetti biblici e qui al capitolo 47 relativo ai progetti che stabiliscono quali debbano essere le condizioni di purità per avere accesso al tempio troviamo nella più classica delle collocazioni potremmo dire il riferimento alla lebra prima Maimonide ci sono molte specie di impurità al punto tale che diventa quasi impossibile imbattersi in una persona pura tra chi tocca una carcassa ed è impuro per questo chi tocca animali striscianti mestruanti e partorienti figura il lebroso a lui come agli altri del resto è prescritto di tenersi alla larga dal santuario in qualsiasi momento del giorno e della notte fino alla riconquistata purità perché venga protetto da eventuali contaminazioni perché il santuario venga protetto da eventuali contaminazioni perché però appunto considerare impuro il rettore e il lebroso memoria memoria qui ricalca forse in una forma soltanto più sofisticata le spiegazioni che aveva già offerto nel missione Torah scrive infatti che pur non conoscendo quale sia la ragione ultima dei mezzi usati per la purificazione della lebra essa è una punizione per il turpiloquio e che il mutamento prodotto da questa malattia comincia dai muri quindi vedete è esattamente identico il discorso che sta portando rispetto a quello già portato nel missione Torah se ci si pente l'obiettivo è raggiunto se si continua a disobbedire allora questo mutamento si diffonde sul letto e sui mobili della casa se si continua ancora nella disobbedienza passa ai vestiti e poi al corpo e questo è un miracolo perpetuo nella nazione ebraica il vantaggio di questa credenza è evidente oltretutto la lebra è contagiosa e tutta la gente cerca di evitarla quasi per natura potremmo dire che niente di nuovo troviamo in questo abbiamo già una certa familiarità con la raccomandazione che Memonie sta aducendo che si fonda o radica la lebra ancora una volta nei concetti di punizione pentimento impurità purificazione del resto di qui a breve Memonie stesso ancora nella terza parte della guida tornerà sul tema dei desideri vani o turpi dell'uomo in un elenco che lascia poco spazio all'immaginazione sui mali connessi alla materia quindi gli eccessi del mangiare del bere della coppia e in questo contesto ammonisce sull'uso improprio o volgare della parola parla espressamente delle turpitudini della lingua aggiungendo qualcosa che forse è meritevole di menzione dice infatti che discorrere con la lingua è una delle proprietà dell'uomo è una grazia che è stata concessa per apprendere e insegnare e non di certo è stata concessa perché venisse sprecata esattamente come fanno gli ignoranti e i viziosi gentili nelle loro canzoni e ai loro racconti le canzoni e i racconti si confanno appunto ai gentili ma non a coloro per i quali sta scritto voi sarete per me un regno di sacerdoti una nazione santa servirsi dunque della parola per narrazioni relative al senso che tradizionalmente rappresenta una vergogna il tatto al punto tale da pensare al bere o al coito più del dovuto o di cantare canzoni a questo riguardo non fa altro che violare la grazia che è stata ricevuta all'uomo sprecarla appunto evidente che per Maimoni è quello del turpiloquio e quindi o del parlare in maniera scorretta è un argomento forte importante che torna anche in questo contesto torna in un contesto fortemente intellettualistico qual è la guida per ricordare la nobiltà della parola e la finalità ultima per la quale è stata concessa per l'appunto apprendere ed insegnare però la cosa interessante è che il riferimento al turpiloquio nella guida non esaurisce affatto la spiegazione della lebra la lebra è sì una punizione per la calunnia e per il parlare male ma nella guida troviamo anche qualcos'altro troviamo qualcosa che viene consegnato in realtà al capitolo settantadue della prima parte dedicata nel suo complesso a discutere dell'incorporeità di Dio nonché della controversa questione sull'origine del mondo Maimoni sta qui esponendo quindi lo ripeto in questo in questa prima parte espone le conclusioni raggiunte dalla fisica aristotelica circa la natura e la struttura dei cegli e del mondo sublunare e la loro corrispondenza con la natura e la struttura del corpo umano il modello quindi è quello dell'uomo microcosmo ampiamente condiviso nel medioevo ebraico oltre che arabo e viene qui utilizzato per chiarire insieme la corruzione delle cose naturali e la corruzione nel corpo umano in un parallelismo che è tanto stringente da avere un carattere di scientificità anche in questo caso ho riportato per intero il passo in questione scrive Maimonide come le potenze dell'uomo che comportano la sua generazione e la sua sopravvivenza per il periodo in cui egli sopravvive sono anche quelle che ne comportano la corruzione e la distruzione così le cause della generazione sono anche le cause della corruzione in tutto il mondo della generazione e della corruzione per esempio se queste quattro facoltà ossia l'attrattiva la ritentiva la digestiva e l'espulsiva potessero essere come le facoltà intellettuali al punto da non fare se non ciò che bisogna nel momento in cui bisogna e nella misura in cui bisogna l'uomo sarebbe salvato da grandissimi danni e da molte malattie tuttavia già che esse non possono essere così quindi queste facoltà non possono essere così ma operano i loro atti naturali senza riflettere e senza pensare e non capiscono ciò che fanno ad esse consegue il verificarsi di grandi malattie e di danni spieghiamolo per esempio la facoltà attrattiva se attrae solo ciò che giova sotto ogni aspetto e solo nella misura in cui ce n'è bisogno salva l'uomo da malattie e da molti danni invece quando le cose non stanno così ed essa attrae qualsiasi materia e quella materia più un poco corrotta nella quantità e nella qualità ne consegue che essa attrae una materia più calda o più spessa o più sottile o più abbondante di quel che bisogna questa materia si concentra nelle vene e ne nasce un'ostruzione e una cancrena la qualità degli umori si corrompe e ne altera la quantità si verificano malattie come la scardia la rogna e i vermi oppure danni gravi come il tumore canceroso la lebra e la cancrena al punto tale che la forma delle membra o le membra stesse si corrompono e così accade anche nel complesso dell'esistenza la mescolanza degli elementi attuata grazie alle potenze celesti che li muovono e li pervadono è anche la causa del formarsi delle cause che danneggiano l'esistenza come inondazioni piogge torrenziali neve freddo venti violenti tuoni lampi infinamento dell'aria o è la causa del formarsi delle cause molto distruttive che fanno sparire uno o più paesi o un'intera zona come gli smottamenti i terremoti gli uragani e le acque provenienti dai mari e dalle inondazioni le parole di Maimonide sono incontrovertibili da questo punto di vista le malattie evidentemente trovano qui una spiegazione diversa rispetto a quella che Maimonide aveva offerto fino a poco tempo fa trovano una spiegazione lontana dall'ordine morale in cui erano state precedentemente collocate quello che infatti dice qui Maimonide è che è piuttosto la natura delle facoltà o la loro istintività il fatto cioè che le quattro facoltà elementari siano sprovviste di pensiero a determinarne la caduta e le malattie che ne conseguono l'elbra inclusa sulla scorta dell'insegnamento di Galeno si dice qui infatti che la mescolanza di elementi secondo qualità e quantità che non dovrebbero essere mescolate fra loro spiega i fenomeni più dannosi tanto nel micro quanto nel macrocosmo e quindi nessuno dei concetti ripetuti finora e ripresi poi nella stessa terza parte della guida entra in questo capitolo 72 in cui la lebra viene risospinta in un orizzonte tutto naturale tutto umano ed elementare procedendo però oltre troviamo anche un altro un ultimo richiamo alla lebra il contesto questa volta è quello dei mali che vengono spiegati attraverso un elenco dettagliato delle specie in tutto tre in cui i mali si presentano Maimonie comincia questa spiegazione sul darsi del male dal riconoscimento di un errore un errore assai comune dice Maimonie stesso che è quello di immaginare che i mali nel mondo siano più numerosi dei beni questo assunto costituisce l'occasione per trattare una questione assai delicata che è quella della insignificanza o della irrilevanza del male rispetto alla pienezza e l'assolutezza del bene Maimonide affronta la questione da una prospettiva che è genuinamente quantitativa analizzando cioè la frequenza statistica con cui le specie di male si danno dice infatti che rara è la specie di mali che gli uomini si infliggono reciprocamente per esempio un individuo ne sorprende un altro e lo uccide o lo rapina nottetempo ancora più rara è la specie di mali che contempla le malattie di carattere congenito o causate secondo quanto viene aggiunto la Maimonide qui da alterazioni negli elementi come possono essere la corruzione dell'aria i fulmini o l'eclissi rispetto a queste due specie di cui una statisticamente più rara dell'altra maggioritaria è la specie di mali che a noi interessa quella che cioè l'uomo infligge a se stesso tanto sul piano psichico e quindi abituando la propria anima a ciò che non è necessario né per la propria sopravvivenza né per la sopravvivenza della specie umana quanto sul piano fisico quando cioè cede nel mangiare nel bere o nell'accoppiarsi ed è proprio in questo contesto che ritroviamo il riferimento alla lebra diciamo e monide ogni ignorante immagina che l'esistenza intera sia in funzione della propria individualità come se non esistesse altro che lui pertanto se accade una cosa che è contraria a ciò che gli vuole egli afferma decisamente che tutto ciò che esiste è male invece se l'uomo considera l'esistenza la concepisce e sa di avere in essa una parte insignificante la verità gli sarà chiara ed evidente in effetti questa grandiosa follia concepita dalla gente a proposito della moltitudine e dei mali del mondo non viene affermata a proposito degli angeli né a proposito delle sfede celesti e degli astri né a proposito degli elementi e di ciò che da essi è composto né a proposito delle specie animali tutti i loro pensieri riguardano alcuni individui della specie umana costoro si stupiscono del fatto che a chi ha mangiato cibo cattivo al punto di ammalarsi di lebra sia capitata questa grave malattia e del fatto che esista questo male e del pari si stupiscono che chi ha ecceduto nel coito arrivi al punto di essere colpito dalla cecità e danno grande importanza all'afflizione di costui che è diventato cieco e cose simili la vera considerazione da farsi al riguardo è che tutti gli individui esistenti della specie umana e tanto più quelli delle altre specie animali sono una cosa assolutamente insignificante a confronto con tutto ciò che esiste e si perpetua come spiega chiaramente la Bibbia scusate l'uomo a cosa vana è simile l'uomo è un verne il figlio dell'uomo è un bruco anche gli abitanti di case di fango eccetera ecco le genti sono come la goccia di un secchio la lebra quindi non deve stupire dice qui Maimonide o meglio stupisce soltanto l'ignorante che non si accorge di aver contratto la lebra a causa dell'ingestione di cibo cattivo e il riferimento è sicuramente bizzarro curioso potrebbe far sorridere ma è il sistema nel quale Maimonide lo inserisce che merita forse di essere considerato perché quello che Maimonide sta dicendo qui è che la lebra è un male e in quanto tale non interessa la costituzione specifica quindi non interessa la specie umana proprio perché la specie umana è oggetto diretto immediato dell'intenzione divina la lebra interessa piuttosto l'individuo il singolo individuo su cui grava il peso delle sue stesse scelte la lebra quindi qui rappresenta una delle varie declinazioni del male e assieme agli altri mali non fa che costituire il residuo della perfezione generale realizzandosi solo di lato come conseguenza del bene e dell'ordine causale che regola l'intero universo allora concludendo almeno due cose vorrei mi piacerebbe che venissero che emergessero la prima è che la lebra viene inglobata per lo più sistematicamente in un ambito propriamente morale è fin troppo evidente quasi nauseante l'insistenza con cui certi concetti che attengono al dominio della morale vengono ripresi qui per ridefinire lo spazio del lebroso però per alcuni ovvero per i pochi ebrei preparati si insinua una spiegazione della lebra che è sulla della morale ponendosi al di qua delle norme che regolano la vita del fedele in un ambito che si fa di un tratto fisiologico o scientifico presuntamente scientifico per essere poi appunto riallocato in un programma più ampio di discorso statistico sul darsi dei maghi la seconda cosa che vorrei rilevare invece a meno a che fare con Maimoni e con la lebra ma ci riporta a quello che dicevamo esattamente all'inizio di questo seminario e cioè nessuno oggi fortunatamente pensa più che sia Dio ad inviare le epidemie per punire gli uomini dei propri peccati però è vero che si continua invece a credere ai complotti suggerendo quali laboratori avrebbero potuto creare il virus e chi potrebbe essere stato il primo autore e non manca nemmeno chi come il pastore della Florida Rick Viles afferma che gli ebrei che si ammalano si ammalano perché ricevono il castigo in quanto oppositori di Cristo chiudo con questo vi ho lasciato il link se mai voleste ascoltare le le parole di questo di questo pastore e lascio a voi la parola ringraziandovi anche per la pazienza e l'attenzione grazie a tutti